Non sei giovane, se dovessi rimanere incinta che fai? Lo butti, esiste l'aborto? Sei contro l'aborto? Poi ci sono anche le provocazioni, ma per me non sono contro l'aborto raga Te ne va dire da casa mia, ma che dico? Non so che parte di Mexico, non poteva fare una figlia più bella di così Può darsi che abbia questo istinto, spero di no Comunque cambiamo argomento, sì Uso Rush, Cocaine e Swig Su fare tre figli, che ansia Niente Aurora Non uso ombretti No, mo' ci siamo litigate, è andata via Te incantan? Allora, guarda, ci sta Dire che l'aborto è un omicidio, mi sembra una cosa ignorante Ah, è perché non mi cito anche ogni volta che usi le provocazioni allora Però comunque questo è un tema delicato che non voglio trattare in diretta No, su italiana Infatti sì Com'è curato l'acne? Vari percorsi con vari medici E abitudini quotidiane E alimentazione Grazie tesoro No, forse perché sono un po' scure rispetto al resto del corpo Cioè del viso E forse mettendo il correttore e il blush si va a questo colore Dimmi, Martina Sì, mi hanno fatto cicatrici, si stanno togliendo nell'ultimo periodo Se ti va, perché no, certo E ho pensato che se voglio riavere una bella pelle Devo fare degli sforzi Avro también el español Truccata 24 su 7 Non sei presente nelle mie dirette mattutine, amore Vorrei visitare Londra o Casablanca Grazie No, non mangio quasi mai cioccolata È vero, soprattutto l'alimentazione è più che le creme, secondo me Thank you for the roses Sono stata ad Ischia e a Mykonos Devi usare molta crema solare, prodotti schiarenti, peeling Grazie, tesoro È stata a Barcellona? Sì Mi gustaría riaisciare in Latino America Sì, sono single Non uso i prodotti di The Ordinary e non te li consiglio Voi alla gymnasia o sì? 30.000 like Grazie, si punta ai 50.000 La mattina mangio 4 fette biscottate integrali 10 mandorle, un bicchiere di latte di mandorla e basta Metto un po' al massimo, se non mangio 10 mandorle Metto un po' di crema di mandorle bio sulle fette biscottate I'm using wheel from MAC Sbagliature, certo, e anche cellulite Fai sport? No, faccio palestra in sala Si dice palestra in sala? Palestra completa in sala, come si dice? Come le stai levando? Con crema solare, prodotti peeling, prodotti antimacchie Perché sei single? Non ho trovato l'uomo giusto No, magari Bei tempi Sì, anche a me hanno dato elucerina per un periodo Buono Ora sono Dainia Smordente Peeling Faccio maschere peeling Di Lamuse Lab 19 anni, dove sei in Napoli Io ti vedo perfetta amore Grazie, come sei dolce Mi saluti, ciao Mi piacerebbe Qualsiasi, guarda Una se naturale, sì Sei rifatta? No È molto brava Sì, la conosci Addirittura, dai Gambe Gambe un po' sul seno Si notano un po' nei video Sì, ho fatto qualche volta le lampade Chi è Beppe? Mi ugino E vava? State tutti quanti insieme? Perché a Napoli le ragazze sembrano trans? Non ti so dire Io vedo solo belle ragazze a Napoli Non so dove le vedi ste ragazze Come dici tu Sì, sì, siamo in studio Chi state, amore? Non so come levarli Alimentazione, amore Se sono solo sul mento Probabilmente l'alimentazione Sei fidanzata? No Per l'università? No Di niente, Marianna Hai mai sbiancato i denti? Sì Ho lavorato però un po' come fotomodella Mi piace ma ho altri obiettivi Ogni tanto però B ci sta Arriviamo a 50.000 like Dai Perché? Perché ho deciso così Ogni quanto sgarri Allora Prima All'inizio di palestra Non sgarravo mai Ma proprio mai I bicchieri precisi Neanche la Coca Zero Neanche una caramella Niente Poi piano piano Ho iniziato a sentirne il bisogno Perché mi sentivo senza stimoli Quindi Sgarravo una volta a settimana Poi ad esempio Agosto ho sgarrato Tipo 3 settimane Sì Alimentazione E ora voglio Almeno 1-2 mesi Non sgarrare mai Non penso che faccia La skincare notturna Troppo sonno La collana È un negozietto a Napoli Grazie Angela Grazie per i regali Larson È vero All'inizio si è assassinata E poi Poi a scemare Scemare È vero Infatti Per questo Ho iniziato a sgarrare Almeno una volta a settimana Perché Ero infelice Cioè Quando uscivo con le mie amiche Loro Mangiavano la pizza Bevevano il drink Io stavo là E così Manco è sano La vera Il vero sano È 20-80% 80% sano 20% non sano Grazie per i regali Thank you Thank you so much Si astemiano Allora La mia alimentazione Tipo Tanti auguri La mia alimentazione Tipo Oddio Che ne sai Come fa a saperlo Messi Vivo in Napoli Thank you for the gift Si sto crollando 19 anni Thank you for the gift No Messi Thank you for the gift Thank you Che sono grazie Me li fa il parrucchiere Purtroppo Si uso la matita Sopra e sotto gli occhi Alimentazione Tipo Allora La mattina Quattro fette Biscottate integrali Un po' di mandorle Un bicchiere di latte Vegetale Metà pomeriggio O albume O insaccato O Ehm O albume Ehm